ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo ecco sto preparando l'oblò per la nuova segillatura perché sono passati più di due anni due anni circa e segillatura ancora teneva però si incominciava ad aprire faccio vedere lo stato del silicone aspetta se riesco a prendere un pezzo che è ancora morbido vedete ancora morbido e bianco all'interno ovviamente fuori cambia colore con l'umidità però diciamo elastica ancora non so vedete tanto a tirarlo con una mano per farvi vedere che comunque io avevo messo non ricordo se il bostic o il sega comunque ha tenuto bene fino ad oggi è arrivato il momento di sostituirlo e fare una nuova segillatura questo è lo blog che avevo messo due anni fa perché quello originale si era rotto ormai la plastica non era più buona niente finisco di pulire mettiamo il silicone nuovo e poi andrò a fare anche qui il trattamento di impermeabilizzazione come ho fatto davanti e così faremo in modo che la sigillatura duri molto più di due anni e poi testeremo più avanti il risultato ok ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di seguire il gruppo e vi saluto a tutti e un abbraccio e al prossimo video ciao